Per il Dante Dico, Mediocesi di Verona e con l'emittente Telepace, abbiamo confezionato uno speciale dal titolo Dante Pellegrino, uomo di cultura e di fede, dove il Vescovo Monsignor Giuseppe Zenti e il Professor Stefano Quaglia condurranno i telespettatori e le telespedatrici alla scoperta del pellegrinaggio interiore ed esteriore di Dante, del sommo poeta, anche grazie agli interventi di numerosi ospiti, come per esempio il Monsignor Giuseppe Vettori, Cardinale e Arcivescovo di Firenze, Monsignor Lorenzo Dizzoni, dell'Arcidiocesi di Ravenna a Cervia, che assieme a Verona festeggiano l'anniversario dantesco. Interverranno anche Don Bruno Fasani per la capitolare, i docenti Paolo Pellegrini e Maria Clara Rossi per l'Università degli Studi di Verona e il Professor Donato Pirovano dell'Università degli Studi di Torino. Il racconto sarà intervallato dalla lettura di brani della commedia declamati da due giovani attori dentro la nostra antica basilica di Sant'Ella, uno dei luoghi veronesi in cui Dante sicuramente è stato. Lo speciale andrà in onda il 25 marzo alle ore 21 su Telepace e sul canale YouTube della Diocesi di Verona. Grazie a tutti.